Io avevo cinque anni e durante la raccolta nei miei sestivi mi portavano con loro. Però io ero cucina e mi annoiavo. Quando loro raccoglievano il tabacco, io passavo e gliele spacevo tutte le vattuccine. Il babbo preso dalla rabbia, un giorno con un vicco, mi legò ad una pianta. Poi passò un conoscente e mi chiese, ma cosa fai con questi? E mi sciolto. Racconti classici e racconti autobiografici per socializzare, sensibilizzare alla lettura e mantenere vive le memorie del passato. E' questo il senso dell'iniziativa promossa dalla Casa di Riposo Fossombroni, la Casa Pia, che ha strutturato un ciclo di incontri mensili insieme all'Associazione Donne di Carta di Arezzo. Il progetto è molto ambizioso. Ringraziamo infatti a nome anche di tutto il Consiglio di Amministrazione, del Direttore e l'Associazione Donne di Carta, perché sta dando l'opportunità ai nostri ospiti di ascoltare mensilmente dei classici ad alta voce, ma soprattutto di raccontarsi e di raccogliere le loro memorie. E' evidente che questo tipo di lavoro stimola sia la mente che il cuore, perché l'esercizio cerebrale dell'ascolto e del racconto, ma anche l'emozione di ricordare i momenti salienti della propria vita. Quindi noi abbiamo sempre impostato l'azienda proprio con queste iniziative, di modo che sia non solo reso più accogliente e più piacevole la loro permanenza presso l'Istituto, ma sia anche uno stimolo, uno stimolo a mantenere viva sempre un'attività cerebrale, e l'emotività e la compagnia sotto tutti i punti di vista. La mente va comunque sempre tenuta in allenamento, anche se è una mente un po' grande. Sì, è importante per loro anche l'attività del ricordo, perché comunque ovviamente loro a questa età qui c'è tantissime cose, il vissuto è importante e la relazionalità è importantissimo, per non sentirsi soli e interfacciarsi sempre anche con situazioni nuove e essere gratificati, essere ascoltati e ascoltare nello stesso tempo. Per cui Eri entra comunque in un programma di apertura della nostra azienda, che è in accordo con il Consiglio dell'amministrazione, e stiamo facendo moltissime iniziative di apertura alla città, le realtà anche perché purtroppo è sempre più complicato, anche per le condizioni dei nostri ospiti, uscire soprattutto nei mesi autunnali e invernali, per cui il fatto che siamo comunque nel centro della città aiuta lo scambio di questo tipo, è relazionale con le altre associazioni. Questa esperienza con l'Istituto Fossombronies è importante per noi perché le persone che sono qui sono portatori di memoria e riteniamo necessario valorizzare certe realtà perché tutte le persone sono importanti e perché ci teniamo anche a dar voce a tutti, anche a portare quello che noi possiamo dare e a ricevere da queste persone in una stimolazione reciproca. Ci si divertiva e ci si faceva gli scherzi, anche qui mangiavamo bene. Grazie a Mauro per questa testimonianza.